Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana che si è riunito il 27 e 28 di aprile. Questi i titoli. Un milione, anzi oltre un milione di toscani sono stati vaccinati a oggi, faremo il punto della situazione. Poi è stata istituita anche la commissione speciale proposta dalla Lega per quanto riguarda proprio i vaccini e poi un grande aiuto per i cittadini. Adesso c'è un numero unico di emergenza sanitaria in Toscana, il 112. E si è svolto in commissione sanità il consueto aggiornamento settimanale sull'andamento delle vaccinazioni anti-covid-19 in Toscana con la presenza dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e dei tecnici della giunta regionale. Ne è immerso una novità, cioè l'assessore che ha annunciato con l'arrivo della prima fornitura di vaccino Johnson & Johnson, ci sarà l'ultimo click day con l'apertura del portale di prenotazione. Così appunto è avvenuto, ne hanno discusso soprattutto ai nostri microfoni, ne hanno commentato anche l'andamento delle vaccinazioni in Toscana i consiglieri regionali e anche il presidente della nostra regione. Ascoltiamo. È un successo per l'impostazione della campagna vaccinale da parte della regione toscana. Innanzitutto il rilevo che domenica, domenica 25 aprile, noi abbiamo riscontrato i dati che ci possono dire di aver completato la prima fase della vaccinazione gli over 80 e in questo caso la Toscana si è presentata insieme alla regione Veneto, a un soffio della regione Veneto come la seconda delle regioni italiane a arrivare a terminare la prima fase di questa campagna vaccinazione. Pensare a un mese e mezzo fa, due mesi fa, le polemiche in cui ci imputavano di essere partiti con ralentatore, i film si guardano non all'inizio ma si guardano alla fine, le corse si valutano non per chi parte prima ma per chi arriva prima e in questo caso la regione Toscana si è dimostrata con l'attuale 93-94% di copertura all'altezza di una regione efficiente in grado di offrire servizio, di coprire la fascia di età più fragile, appunto quella degli over 90. Il traguardo degli over 80 è stato raggiunto, mi pare un risultato assolutamente importante grazie anche all'organizzazione della macchina con tutti i medici di medicina generale. Procedono anche le alti livelli di vaccinazione, c'è però da recuperare in maniera forte, da dare un imprinting forte sulla vaccinazione degli estremamente vulnerabili che devono essere conclusi il più velocemente possibili e dei caregiver. Noi giovedì porteremo una risoluzione in commissione, in questa risoluzione chiederemo alla Giunta di andare a chiudere il più velocemente possibile, mettere tutte le dosi di Pfizer che sono libere, sugli estremamente fragili e vaccinare tutti i caregiver. Questi sono la priorità assoluta della Toscana in questi giorni e noi chiediamo formalmente alla Giunta giovedì di fare questo scatto che è assolutamente necessario perché è chiaro a tutti che ormai le quantità anche di estremamente fragili da vaccinare non sono altissime ma è importante, è un segno di civiltà, chiudere velocemente questo livello, questa vaccinazione. Ma si deve fare ancora meglio, qualcosa è cambiato, bene che siano accolte le nostre proposte, avevamo chiesto di cambiare, di inserire anche dei numeri verdi, far licitare le prenotazioni, avere un seguimento diretto, avevamo chiesto l'utilizzo degli hub, l'intervento della protezione civile, avevamo chiesto alle ASLE di accompagnare il percorso dei medici di base, quindi tutte questioni che a mio avviso hanno migliorato fondamentalmente la campagna di vaccinazione, sarebbe fare ancora meglio, all'inizio sono stati commessi degli errori, forse anche le nostre critiche e le nostre proposte hanno aiutato la regione toscana a migliorare, il trend lo vedo positivo e quindi mi auguro che nei mesi di maggio, giugno e luglio si possa fare bene, si possa fare meglio, più veloce e si possa quanto prima portare la toscana fuori dal momento in cui un'immunità di Grecia possa veramente consentire una ripartenza reale, quindi ci giochiamo tutto in questi tre mesi. La prima tappa è superata per modo di dire, perché tra una buca e un'altra nel nostro percorso accidentale, perché sostanzialmente stiamo terminando gli over 80, ma per esempio tutti i medici e gli operatori sanitari che devono ancora avere la vaccinazione di fatto non la ricevono in quanto stiamo cercando di portare a termine la risoluzione per gli anziani. Ora voi capite però che c'è un intasamento grosso, oggi ho avuto delle foto del Mandela Forum che è completamente vuoto. Vuoto perché? Perché abbiamo voluto fare un po' di show e quindi il giorno di Pasqua e Pasquetta abbiamo vaccinato, hanno vaccinato fino alla sera alle 11, in realtà poi ora per due giorni o tre il Mandela ha circa 3.000 euro al giorno di affitto, è vuoto e non c'è nessuno. Perché? Perché non ci sono i vaccini, non ci sono i vaccini perché non c'è una programmazione. Ora capisco l'assessore che giustamente dice che ce le devono mandare. In realtà noi dovremmo cercare di forzare la mano perché la programmazione secondo il decreto ministeriale alla Toscana gli dovranno toccare di più dei vaccini che sono arrivati. Per cui, perché non sono arrivati questi vaccini? È vero che AstraZeneca vogliono fargli un procedimento diciamo legale per il non arrivo dei vaccini. Il fatto è però che questa è la situazione di oggi. Gente che sta di fuori in fila con un assembramento perché vuole essere vaccinata, altre persone che non riescono ad essere vaccinate pur avendone completamente i diritti. Per cui io credo che la Toscana non abbia fatto una bella figura. Da quello che risulta ci sono ancora molte persone che devono essere contattate dalle ASL e il fatto che comunque si sia riusciti a completare una buona parte non nasconde comunque che questo è avvenuto con un gravissimo ritardo e con altrettanto grave ritardo si sta attivando la commissione speciale per quanto riguarda i vaccini. Una volontà secondo me evidente della regione toscana di non voler fare un monitoraggio, un'analisi di ciò che è andato storto per cercare di riparare. Quindi un mancato riconoscimento di tanti errori che sono stati fatti e di cui, lo ripeto, non si può attribuire esclusivamente la responsabilità a minore quantità arrivate. Perché il fatto che fossero state distribuite per categorie che non avevano ad esempio le necessità o i bisogni di immediatezza di altre, l'utilizzo dello Pfizer rispetto agli AstraZeneca per alcune categorie di amministrativi e molti altri errori non sono giustificabili e continuano a inficiare il risultato di questa campagna vaccinale insieme all'utilizzo della piattaforma e con tutti i problemi di prenotazione che ci sono stati. I vaccini siamo a un punto rispetto al quale la Giunta sconta lo stesso difetto che ha scontato in maniera costante in queste settimane e in questi mesi. Non dice le cose chiaramente come stanno. Di vaccini ne è arrivati all'incirca questa settimana lo stesso numero di quelli che sono arrivati nelle settimane precedenti. Con la differenza che da questa settimana è iniziato il secondo giro, ovvero la seconda somministrazione di tutti quei vaccini che prevedono la somministrazione di due dosi. Quindi è evidente che si arriva allo stesso numero, ma una buona parte di quel numero viene utilizzato come seconda dose, diminuisce il numero delle prime dosi, cioè dei nuovi vaccinati. Allora queste cose qui vanno spiegate chiaramente ai toscani, perché ora noi siamo nuovamente assaliti, noi sia in minoranza, mi immagino anche che stia in maggioranza, da persone che dicono sono chiusa le prenotazioni, non ci si riesce a vaccinare. Era una cosa ovvia che io avevo già denunciato nei giorni scorsi, la scorsa settimana, perché evidentemente essendo iniziato il secondo giro diminuisce le prime vaccinazioni. Sui vaccini chiediamo un'accelerazione. Guardate, un tema su tutti. Non solo gli over 80, gli over 70, ma i super fragili e i car giver. Ecco, questi due, super fragili da un lato, tech card giver, stanno ancora aspettando le dosi vaccinali. Il Consiglio regionale si era espresso in maniera molto chiara. Vaccinari e super fragili anche coloro che sono nel follow up della chemioterapia, cioè che non hanno finito la chemioterapia soltanto nei sei mesi. Noi stiamo ancora aspettando che quell'atto di indirizzo del Consiglio regionale diventi realtà. Tutto questo è inaccettabile. Se l'Assemblea legislativa regionale ha un senso e si dà un indirizzo, l'assessore quell'indirizzo lo deve rispettare. La nostra pazienza sta arrivando a limite. Se l'assessore non farà un atto di indirizzo comunicando alle AS competenti, ai reparti competenti che hanno in cura, i malati oncologici, nell'arco dei cinque anni di follow up, li devono chiamare subito ad essere vaccinati, faremo una protesta eclatante. Perché questo è un segno di civiltà nei confronti delle tante persone che hanno sofferto, che hanno fatto chemioterapia, che hanno fatto radioterapia, che hanno fatto le loro cure, che sono usciti dal percorso. Ed è anche un atto di rispetto nei confronti delle tante persone che non ce l'hanno fatta. È inaccettabile che in regione toscana i malati oncologici non vengano vaccinati. Istituire per la durata di tre mesi è rinnovabile una sola volta la Commissione Speciale per il Sostegno, il Monitoraggio e il Controllo della Campagna Vaccinale per la Prevenzione delle Infezioni da SARS-CoV-2. È quanto chiede una proposta di delibera presentata dalla Capogruppo della Lega Alisa Montemagni, approvata dal Consiglio regionale, con il voto contrario di Fratelli d'Italia. Nel corso del voto sono stati anche approvati alcuni emendamenti proposti da Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Partito Democratico. Montemagni ha sottolineato che con questa commissione intendiamo metterci in gioco, dare un'accelerata al piano vaccinare e soprattutto tenere sotto controllo l'operato della Giunta regionale. La Commissione Speciale è sicuramente una cosa che noi abbiamo fortemente voluto per dare anche a un certo momento uno stimolo all'assessorato e al Governatore Gianni perché dessero un po' un cambio di rotta a una situazione che era visibilmente penalizzante per i cittadini toscani. Partirà a brevissimo perché si sta già valutando le persone, si sono messi d'accordo sulla modalità, si sta valutando chi ci dovrà andare. È una commissione sostanzialmente di tipo politico affinché possa indirizzare questa fine di emergenza di pandemia, perché la pandemia lo vorrei ribadire e farei un appello a tutte le persone, la pandemia è un qualche cosa che purtroppo rimarrà in maniera sinusoidale perché a un certo momento tra un po' coloro che si sono vaccinati a febbraio dovranno rincominciare a rivaccinarsi, quindi sarà una situazione assolutamente che si ripiegherà le necessità che abbiamo avuto. Speriamo di non avere le stesse problematiche. Naturalmente io tutte le volte che voi gentilmente mi intervistate io vorrei sempre ribadire mi raccomando la mascherina, mi raccomando il distanziamento sociale, mi raccomando il gel disinfettante. Abbiamo chiesto con forza che partisse velocemente, la nostra è stata un'azione forte in Consiglio regionale, abbiamo visto alcuni ritardi derivati da problemi di composizione di alcune forze politiche che non hanno voluto dare un contributo, noi siamo disponibili e pronti perché già le nostre proposte vengano messe in campo. Comunque quello che noto positivo che soltanto il fatto a questo punto di portare avanti le nostre idee oggi vengono raccolte, questo è già un cambiamento di tendenza che a noi fa piacere ed è positivo. Noi facciamo il lavoro che deve fare la terza commissione che abbiamo sempre fatto, tutti i giovedì sentiamo l'assessore Bezzini e per esempio giovedì prossimo porteremo una risoluzione come dicevo che affronterà il tema degli estremamente fragili, dei caregiver, delle prenotazioni, delle monoclonali e anche del tema della presa in carico precoce dei pazienti a casa. Quindi la nostra commissione, a differenza di una commissione che si occupa solo dei vaccini, può affrontare il tema del servizio Covid a 360 gradi. Questa è la mia opinione e questo è il lavoro che stiamo facendo. L'estensione del numero unico in Toscana 112 rappresenta un ulteriore passo in avanti per una nuova fetta di famiglie toscane che comprende anche quelle della provincia di Pisa verso un servizio sempre più essenziale. Questo è quello che ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo commentando la notizia dell'attivazione importantissima del numero unico di emergenza, il 112, esteso anche alle province di Pisa e di Livorno, così che viene completata la copertura dell'intero territorio regionale. Quindi un solo numero unico per l'emergenza anche per tutti i cittadini toscani, il 112. Ascoltiamo Mazzeo. Posso dire prima di tutto che sono orgoglioso, orgoglioso del lavoro che è stato fatto in questi mesi. Oggi si completa un percorso, oggi tutta la Toscana avrà un unico numero per accedere dalle forze richieste di accesso alle forze dell'ordine ma anche al sistema di emergenza. Il numero 112, un lavoro importante guidato dal dottor Lubrani a Firenze, una centrale operativa importante che è in grado di localizzare con estrema precisione da dove arriva la chiamata, in pochi secondi di dirottarla alle forze dell'ordine piuttosto che ai mezzi di emergenza, perché le nuove tecnologie oggi ci permettono di fare tutto questo, ci permettono di arrivare vicino ai cittadini. Io ho sempre detto che la politica deve svolgere bene il suo compito se in grado di essere all'altezza degli occhi delle persone e di dargli risposta. Questa del 112 va esattamente in questa direzione, quindi ringrazio tutte le forze dell'ordine, il personale del mondo del volontariato, le nostre ASL, se siamo riusciti a fare tutto questo è perché il sistema Toscana ha funzionato e sta funzionando. E per questo appuntamento monotematico abbiamo parlato di sanità dai vaccini alla Commissione per la vaccinazione. Il numero unico, lo ricordiamo ancora, il 112, si conclude il nostro appuntamento con detto il Consiglio, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Io vi aspetto sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio. www.consiglio.regione.it